non sono andato avanti proprio cioè sono fermo lì che devo fare ma se si vede male però ragazzi è inutile che vada avanti che devo fare ah ok no perché ho capito che si bloccava ogni tanto bene per l'host qua non si blocca più ok mi spiace giusto giusto ogni volta a me me lo dà il rosso lì non so veramente cosa fare devo appena riesco appena riesco a prendere il cavo lo faccio lo abbiamo ordinato l'ho appena ordinato su amazon ragazzi abbiamo preso un'altra cosa e con la scusa ho preso il cavo ben ritornato zel eh purtroppo ho problemi di connessione adesso il cavo dovrebbe arrivare giorno 23 che l'ho ordinato su amazon speriamo bene mi dispiace mi è crashato tutto perché in teoria eravamo anche un bel po' ciao ciao reniker grazie per essere ritornato purtroppo ho problemi ho problemi perché sono in un bunker sotto tutto in wifi e forse non mi regge la connessione scusatemi purtroppo mi dispiace solo perché ho notato che avete cambiato nome adesso a posto dell'Italy c'è live penso tutti in sti giorni con la linea si si no ma infatti lo so che non sono il solo ah si abbiamo no il cambio nome io non lo so eh chiedete a Gianluca forse l'ha modificato lui 54 vivi zel stai giocando ah ok ok ma ragazzi io vado avanti ah ok in solitaria stai facendo la solitaria anche io la voglio provare ma ragazzi comunque da dove eravamo prima siamo usciti dal treno siamo qui e adesso vediamo cosa succede io sono arrivato da da lì mi sembra e adesso cominciamo a vedere bene questa demo spero che chi chi c'era prima ritorni allora in una grigia mattinata del 25 settembre la centrale di Red Considio ha ricevuto la chiamata di un cittadino terrorizzato testimone di un'aggressione da parte di un balordo vestito di stracci scusate coronavirus no non lo scherzo il sospetto aveva assalito un passante al nord del museo d'arte l'AMSI grazie grazie le gente arrivati sul posto si sono trovati davanti alla cominciata scena del corpo mutilato di una donna gettata in un cassonetto dell'immondizia il cadavere mostrava numerosi segni di morsi il che ha lasciato ipotizzare che la vittima fosse stata dilaniata usando i denti si tratta del terzo caso di cannibalismo racconsigli questo mese tutti si domandano chi possa essere il colpevole chi è il mostro che si aggira per le strade qui alla redazione del news comment ci chiediamo se non sia una dei pazienti ricoverati allo spencer memorial perché cannibalismo e che non gradisce particolarmente il cibo della menza dell'ospedale i nostri inviati sono riusciti ad entrare nello spencer memorial per informarsi sui fatti e sono tornati con dettagli che farebbero rivoltare lo stomaco anche al peggiore del serial killer voltate pagina per sapere di più sullo scopo dell'anno ah ok eh si non lo sapevo che avevamo cambiato il nome bene comunque eeeh si sente anche dal pad qual è il piano il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari vuoi riattivare l'infrastruttura della metro e come dovrei fare prima ripristinare la corrente ti guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada ricevuto vado subito ok 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 comunque il discorso l'avevo interrotto ragazzi dicendovi che resident evil 3 è ambientato nello stesso arco temporale del 2 esattamente la storia l'avventura di gil partirebbe un giorno prima dalle date dei documenti che si trovano però è ambientato nello stesso arco temporale cioè mentre mentre gil gioca mentre gil fa questa avventura ci sono lì o necler in teoria che stanno girando da altre parti quelle che abbiamo visto sul 2 eh si è veramente un graficone ma già il re-engine è davvero un bel motore grafico ragazzi l'hanno adottato con resident evil 7 per la prima volta e poi l'hanno migliorata la grande allora il menu aspetta si apriva così ok adesso intanto combiniamo le piante così liberiamo un po' di spazio e combiniamo anche la polvere da sparo per fare i proiettili che combineremo con questi perfetto l'inventario ce l'ho lì ah ah figo posso mettere anche gli oggetti curativi sul menu no forse forse no usa esamina combina ok no 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 mi sa di no ok manuale per miscelare le piante non lo leggo ragazzi perché lo sappiamo che si possono miscelare le piante questi qua si deve sparare come quelli del 2 vediamo non so se succederà qualcosa nel 2 c'erano pure quelli a cui dovevi sparare allora qua c'è un orologio vediamo magari poi bisognerà tornarci qui esploriamo un po' ah qua c'è il baule vediamo probabilmente sarà vuoto vediamo deposito si è vuoto proprio non c'è un cazzo beh andiamo avanti abbiamo torce no ah che figo questa schivata non mi ricordo se su 2 c'era questa schivata ok via eh ok si lo shooting è proprio quello del 2 bella mira del cavolo come al solito ok ok di qua non si può andare da nessuna parte che mi ricordo il filmato iniziale del 3 era bellissimo c'era questa sparatoria davanti non so se era davanti alla centrale di polizia eh non aspettiamo chissà che il cambiamento rispetto al 2 come remake sono più o meno gli stessi sì 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 è identico è identico Marco però è molto figo una bella scritta here entriamo ah no ma quella dove ero prima sorry e allora andiamo per questa strada pensavo fosse un'altra sala cinesca altri proiettili la vedo un'ombra vedo un'ombra di qualcosa eccoli la aspetta come la schivata secondo me sarà utile quella schivata lì ma anche sul 3 infatti avevano introdotto la schivata i soliti 4-5-6 colpi per buttargli giù va bene io purtroppo continuo a sentirlo basso in cuffia la vedi adesso te lo dice che ce l'ha schivata ok questo ce la farà ma da dire la sala cinesca vero vediamo vediamo sto andando piano perché voglio esplorare bene e capire eh si servirà credo per il nemesis se l'ha schivata nel frattempo siamo di nuovo in set ragazzi benvenuti a tutti o bentornati per chi c'era prima prima del crashone assurdo che mi ha tirato il computer ma vi ringrazio se siete ritornati ok così dobbiamo spegnere questo incendio quindi forse eh ah no serve qualche qualche manovella allora ciò dobbiamo andare da qualche altra parte che probabilmente sarà di qua infatti attenzione abbiamo gli zombie che scavalcano questa è una novità eh se però io no 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 ok da uno mi dovevo far prendere ora vediamo come è la situazione però io me la darei a gambe ragazzi Dario volevi volevi essere alternativo e magari con lo sparo usciva l'acqua si infatti vabbè io ci ho provato sai com'è eh però ce n'è tanti qua mi sa che qualcuno sta batteria qua mi sa che lì ci devo tornare ma voglio che mi tolgo dalle balls esatto esatto ma sai com'è ci ho provato però se ne sono si sono allontanati tutti però li volevo buttare giù per vedere questa sembra un generatore qualcosa dillo lo avete stato apposto per vedere se era un vero residentivo no 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 non ce l'ho non ce l'ho arrivato veramente fino a lì beh però si allontanano questa non non è una cioè è buona però ai fini di intelligenza artificiale non è una bella cosa vediamo ok alla fine non serviva a niente ho sprecato solo proiettili vediamo qua se c'è qualcosa forse da sparo ok come non io credevo in te allora allora minchia questo si rialza ragazzi meglio che questi si rialzano minchia proiettili sempre ottimi da lì sono arrivato ci riprovo eh anche se non credo e infatti non ci vorrà mentre non mi dice niente quindi neanche la chiave ci vorrà ecco la tronchesina così ci andiamo a rompere a rompere quel lucchetto mi sa e cosa deposito io non depositerei questa qui tanto c'è ancora la piantina e ora combino di due polveri da sparo voilà ok abbiamo fatto lo stesso discorso di prima allora sta tronchesina però qua non mi dice che si può utilizzare qualcosa quindi mi sembra strano esamina non c'è niente di particolare non me la fa neanche usare quindi niente pensavo che questo si rompesse con la tronchesina invece no eh si sono bellissime il problema è che io sto sentendo tutto piano in cuffia ma non capisco perché ecco qua altri parca troia vediamo di poi cosa c'è niente ok via 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 minca cazzo quello però è aggressivo voglio provare una cosa non è andata bene ciao Cirillo grazie per essere ritornato grazie mille ma cazzo vado di qua vediamo qua se troviamo oggetti perché ragazzi bisogna esplorare se no oh merda pianta rossa va bene ora poi la combiniamo altra polvere da sparo minchia ho visto una cosa però ho paura che ce lo zombie dietro grande grande Cirillo grazie ho visto su quel poster dei numeri cerchiati in rosso aspettate che combina con questa ok io la utilizzerei perfetto aspettate aspettate faccio fuori questo e poi andiamo a vedere quel poster perché ho visto dei numeri no grande zelle terzo grandissimo e dai allora ho appena visto ecco vedete qua questa qua mi sa tanto l'aria di una combinazione perché vedete c'ha i numeri con la freccetta quindi secondo me queste sono combinazioni da cassaforte o da qualche lucchetto però la dobbiamo trovare quindi 9 a sinistra minchia ragazzi qua si fa come gli anni 90 si deve scrivere se no Marco 9 1 8 allora 9 a sinistra 1 a destra 8 a sinistra dai ragazzi confide in voi però prima la devo trovare la cassaforte no o il lucchetto scale 9 a sinistra non è a destra 8 a sinistra grande Marco eh sì si sta riposando è tombola no minchia mi sono cagato addosso questo bastardone c'è qualcun altro di qua vediamo eccola la cassaforte va bene vai aspetta sei morto per sicurezza allora sì sì comunque è strafigo eh qui cosa abbiamo diario del proprietario della farmacia questo nuovo tonico per capelli sta andando a ruba i loro prodotti fanno sempre meraviglie ma ne sbagliano uno ci ho scommesso molto e ne ho ordinato una partita enorme la mia intuizione mi sta ripagando letteralmente sono sicuro sono sicuro che le vendite aumenteranno ancora più dopo ci si spargerà questa zona sta diventando molto pericolosa sarebbe meglio se acquistassi una buona cassaforte visti tutti i verdoni che sto accumulando la nuova cassaforte è perfetta nessuno ne conosce la combinazione nemmeno mia moglie eh ma io sì però è un segreto che rimarrà tra me e la mia bellissima regina acqua cure sono sicuro che lei non la dirà ad anima viva era scritta altra polvere la sparo allora i suoni degli spari li hanno migliorati eh io uso il coltello per finirli ah sì è vero infatti ho anche il coltello non ci avevo pensato allora la cassaforte era 9 no ah no prima la devo fare ok non devo 9 1 8 yes tutto questo casino per prendere cosa un mirino mirino per pistola vediamo combiniamolo yeah ok ma che cosa ah ti dà quel puntino rosso ok pensavo che andasse in prima persona da riusci i cheat hai visto sedimi cheat sono arrivato da lì no allora allora dopo scendiamo di là ma prima voglio salire di qua aia sento sento rumori queste casse questo nostro giallo non è che c'è un modo tipo per spingerle io sento il rumore che non è tanto confortante però è questa no non era questa minchia che brutti rumori ah no porca puttana minchia c'è qualcosa per ora sono crepati forse polvere da sparo ok tanta polvere da sparo sto trovando in basso allora mi sono garantito ah ah ok sono è una shortcut questa scala perché sono ok no no torniamo su torniamo su ok ma secondo voi la tronchesina serve per per l'idrante nel frattempo mi è partito tipo ho detto idrante con lo sputo forza da riusso bed vediamo no volevo andare di qua ah ma sicuramente torno sulla stessa strada o no ah si sono davvero prima eeeh l'idrante l'idrante dove cazzo è l'idrante the final nemesis e con questo nome non poteva non followarsi oggi ciao final nemesis grazie per il follow e benvenuto sull'etme play allora ah ah Cirillo pensavo che mi stessi dicendo apri qualcosa qualcosa che avevi visto nel gioco proiettili un final nemesis che sicuramente avrà già provato la demo ma grazie grazie mille per il follow allora io volevo andare adesso mi sembra strano però che la tronchesina serva per l'idrante non so perché e non mi ricordo neanche dove io invece ah ecco non avevo ancora aperto la mappa allora queste sono zone già fatte ci sarebbe questa zona qua che c'è qualcosa però magari è solo qualche oggetto questa l'abbiamo fatta tutta dai resti fermo devo guardare le chieppe di Jill ma non te le mettono la telecamera non riesce a a valorizzarle non è come in iero automata che sali le scale e guardi da sotto ah volevo provare la schivata non ce l'ho fatto non mi ricordo più dove è l'idrante qua era la stanza con la combinazione ok l'abbiamo fatto ok tanto è caduto come fa lenta adesso non mi ricordo dove è l'idrante io entrerei anche lì se si ci vuole entrare eh alcuni zombie vediamo se stavolta si apre alcuni zombie sono tossici oh ma da qua eravamo arrivati no? cazzo non mi ricordo più uffici della metro ok qua non c'eravamo venuti allora in caso di interruzione di corrente la metropolitana interromperà l'intero servizio su tutte le linee una volta ripristinata la corrente si prega di utilizzare il pannello di controllo per confermare la trattata per correre nel caso in cui non fosse possibile verificare la sicurezza del percorso stabilito apparirà un messaggio di errore e il servizio non verrà ripristinato si manca la corrente come faccio? va bene qui dobbiamo mettere la corrente oh bore 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 benvenuto ciao grandissimo come stai? grazie per l'host bore 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 l'ho vista adesso perché quell'alerte lì è l'unico che che non va ho visto la notifica grazie mille tantissimo allora proviamo allora manichetta antincendio oh perfetto adesso possiamo andare ad aprire l'idrante ma prego in questi mi sono appena svegliato dal pisolo ah bevato te bevato te che ci sei svegliata le quattro grande ma lavori di notte in questi giorni gli episodi di violenza vanno peggiorando sempre di più sono persino arrivato al punto di comprare un fucile nel caso in cui la situazione vada fuori controllo l'ho messa al sicuro nel porta fucili se le cose si mettono male tagliate la catena ok usate quella bellezza sto finché facendo da scorte di cartuccia non si so mai spero davvero andrà tutto bene perfetto abbiamo scoperto anche la tronchesina cosa rompe intanto c'è meno granata che non posso prendere eh a me si no la posso prendere aspetta perché io adesso questo lo combino qua tac tac eh no finché lo stavo scartando stavo facendo una cazzata no quindi questa granata ce la prendiamo qui abbiamo altra polvere da sparo allora ah ok questa è quella qualità alta ovviamente sono in pericolo proprio combinata con questa vediamo che mi fa le proiettili per il fucile perfetto questi lucchettoni e qua usiamo la nostra bella tronchesina tac bellissimi ragazzi siamo in 11 12 non so ma benvenuti a tutti ragazzi benvenuti eh la curiosità è alta per questo resident evil 3 lo capisco sono molto contento che siete qui allora torniamo fuori però via 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 che qua si muore dovrei trovare non mi ricordo più dov'è il baule no di nuovo qua sono entrato che coglione che sono le scale le scale non mi ricordo più dov'è il baule perché lì ho lasciato un po' di medicinali no minchia non l'avevo visto questa mi ammazza minchia stavo guardando la chat non l'avevo visto porca puttana no a posto sono morto sono morto quasi muore infatti mannaggia però ragazzi non ho visto neanche una macchina da scrivere ma da dove riparta adesso fa comunque un salvataggio automatico ditemi di sì vediamo no mi devo andare a riprendere tutto ma porca miseria mi devo andare a riprendere tutto ragazzi ah era qua l'idrante maledetto che non l'avevo visto prima anche di fronte alla scala era che misera va bene dai via via mannaggia cazzo mi devo andare a riprendere tutto quindi ok dovevo tornare indietro da qua chi era di fronte alla scala che avevo sbloccato probabilmente sulla mappa non lo segnalava mai aspetta aspetta va adesso mi sono già dimenticato tutto dove dovevo andare però ci riproviamo si boh è leggermente mordicchiato allora qua era 9 sinistra 1 destra e 8 sinistra ok e il virino che ah vedi fa anche non l'avevo vista fa anche tipo una giravolta c'è vedi io già no no nonché si è rialzato, nonché il tempo va bene, questo l'avevamo vi letto prima oh mannaggia ah si, Final Nemesis sei uno streamer, allora ti veniamo a trovare sicuramente ma sono un coglione sono un coglione via 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 cosa c'è questo? ma non avevo via 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 guarda dov'è però devo andare a prendere ancora tutto quanto quindi andiamo indietro oh vedi ce l'ho fatto prima già mi sono dimenticato dove sono dove è la manichetta dove è la tronchesina mi sono dimenticato tutto mannaggia mannaggia mi sono dimenticato tutto veramente mannaggia allora qua è qua è aspetta intanto andiamo là oh questo gli è saltato la testa hai visto? oh nero buon pomeriggio buon pomeriggio benvenuto anche a te com'è? no non sono non sono uno streamer ogni tanto porti qualche gioco in live ah ok però intanto ti followiamo lo stesso ok manichetta presa e da qua si torna anche questo l'avevamo visto eh però non c'è la tronchesina adesso dove l'avevo trovata? eh il fucilazza a pompa mi serve questi devono essere difficili o lo facciamo per sbloccare ok questo già l'abbiamo letto prima eee si si appunto infatti vivo vivo ci sono sempre ma non scrivo ieri fino alle 3 e mezza con te in live a vederti morire con Vivi Sector e Dario ahahah si bore sembra molto bello è figure di Final Nemesis non scherzi se possiamo ci aiutiamo tutti un po' a vicenda però io adesso ah eccola qua la ok perfetto piantina la usiamo subito tac allora adesso io se ce la faccio vado a prendermi il fucile tagliando con la tronchesina e poi spero di trovare subito la strada per andare dove c'è l'idrante così andiamo avanti allora fucile là grazie Cirillo figure oh facciamo quello che possiamo eee no di qua era ah ok la mappa si non l'avevo ancora aperta va bene questa facciamo così che bello si anch'io sono contento sono contento perché non vedevo l'ora che usciva il gioco sono contento che siamo qui che stiamo parlando eccolo ti spacco la testa allora 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 mi sa che mi tocca salire dalle scale via ah tu sei quella di prima questa volta non mi fotti stavolta stavolta non mi preghi eeeh ah no di qua no ah è quella che dormiva la prima oh ah c'è lui che deve uscire proviamolo questo fusilazzo ma esce ce la fai o no mi sa che c'è gente si ma il problema è che non capisco perché cioè non ho capito se mi ostruisce il passaggio quindi devo andare da un'altra parte o se uscirà prima o poi perché quella era la via più semplice in effetti minchia aspetta voglio provare il fusilazzo minchia qua altro che coronavirus a racconsidi però mi è un po' fottuto sta roba della porta adesso dove devo andare vediamo si probabilmente è fatto apposto il fatto che da lì non mi fa passare però però che palle aspetta va però sprecare i proiettili del fucile così non è neanche giusto proiettili no ma abbiamo no ok è aggredito e allora rientro cosa c'è qua sparo che non posso prendere va bene ecco eccolo eccolo vedi che c'era un motivo perché non mi ha fatto passare di là e adesso che minchia faccio io via via no 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 via 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 aspetta 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 ho solo due proiettili che cazzo faccio con due proiettili mamma mia dove minchia vado ma cazzo vado no no minchia di qua di qua di qua di qua ma porca puttana via no ragazzi no minchia devo ricominciare tutto ma oh qualcuno l'ha giocata ma non c'è una macchina da scrivere eh continua dal punto di salvataggio più recente ma non ci sono macchine da scrivere no dai un piccolo autosalvataggio te lo deve fare è ritornato un po' più pazzerello il nevesis ok però c'è un autosalvataggio ok o no sì l'idrante ce l'ho sì è qua fuori no ma non c'è il fucile eh aspetta un attimo no devo rifare tutto no vabbè ma io vado dove c'è l'idrante e basta che dite ah no devo farlo ok ma io provo via via finchia 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 via eh sì ok ah forse forse sono riuscito a schivare ma li ha infettati tutti questa via 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 eh sì idrante sì vediamo se si riesce a scappare ragazzi in questo remake l'avevo duro e cold nemesis eh mi sa di sì perché si vociferava già che fosse più aggressivo rispetto ecco cazzo ma cazzo l'hai fatto bene no è finita no minchia ma proprio così no sono rimasto troppo deluso ma no perché cioè nel senso mi stavo divertendo un sacco però ragazzi scusate un attimo se uno lo volesse affrontare il nemesis aspetta analizziamo un attimo analizziamo allora innanzitutto grazie per essere qui 15 spettatori grazie mille analizziamo un attimo la cosa se io lo volessi affrontare sto nemesis in questa demo come si fa con la pistolina e col fucile con quattro colpi vabbè ci sono ci sarebbero le polveri da sparo da combinare farsi un po' di proiettili cazzo ma la vedo dura io sono riuscito a schivarlo solo una volta voglio il gioco subito anch'io vai tranquillo boreo vai tranquillo figurati no ragazzi allora final nemesis tu che ci hai giocato lo hai affrontato no ma infatti perché stavo pensando al discorso quello di combinare le polveri da sparo visto che trovi anche quell'altra per per fare proiettili da fucile con le granate ma granate ne ho trovata solo una che tra l'altro quando sono ripartito dalla salvataggia non l'ho trovata potrei provarci ad abbatterlo che dire boh ma poi si rialza più arrabbiato di prima no infatti non è che l'ho uccito lo so cioè però la demo è tutta qui no che amarezza ok ok Cirillo vai tranquillo grazie mille no vabbè l'ho capito però cazzo neanche così proprio ciao Vivi Sector intanto benvenuto no finchia sono rimasto un po' con l'amaro non lo so volevo andare volevo fare qualcosina in più mannaggia vabbè dai però bellissimo ragazzi cioè nel senso è in tutto e per tutto Resident Evil 2 remake come gameplay grafica vuoi fare qualcosina in più paga mi compro il gioco e beh il gioco già lo volevo comprare cavolo vabbè dai bellissimo però bello bello e il Nemesis sarà dura ragazzi affrontarlo si vede si vede già che sarà dura va bene dai no grande ah non la fanno la versione retaglia per pc ah è strano però io anche io voglio la copia fisica che tra l'altro su pc questa stessa demo esce oggi alle 18 non so perché ma no beh dai già nel Resident Evil 2 remake l'ha preso in versione retile tra l'altro ho avuto un'occasione l'ha trovato tipo 3 euro 2 euro e 50 al GameStop oh Zell eeeh si demo demo finita anche se si praticamente sono riuscito a scappare dal Nemesis ho spento l'incendio ed è finita lì quando il Nemesis sfonde il muro siamo 18 siamo in 18 ci sono 18 spettatori oh ragazzi che emozione perché mi segnala 15 comunque benvenuti a tutti abbiamo giocato la demo di Resident Evil 3 remake eeeh bello 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 ragazzi cioè è molto bello il concept cioè lo conosciamo Racconsidi Nemesis bisogna vedere come la storia sarà diciamo rivisitata perché come nel 2 qualcosina ovviamente deve cambiare però il gioco è interessante ragazzi è veramente interessante poi Resident Evil cioè i primi 3 sono capolavori quindi adesso ci fanno questo poi ci faranno i remake di Danocrisis e poi ci sparano Resident Evil 1 fatto in versione remake per Next Gen bene bene organizzatevi così eh Vivi dobbiamo abbiamo anche un altro giocatore qua di code bene abbiamo Zell e Vivi Sector grandissimi già ne fa il terzo in squadra a voglia di Battle Royale eh magari 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 le remake di Danocrisis comunque ragazzi oh voi che l'avete visto cosa ne pensate del gioco eh magari anche di Parastitive ma quello eh è Square Enix cioè non lo so Parastitive era Squaresoft quindi quindi sì Mosquare Enix magari facessero anche quello è che sembra i remake io voglio io voglio roba nuova voglio roba fresca eh sì eh sì Vivi Sector no ma i remake sì sono belli ti fanno ritornare anche quell'effetto nostalgia poi se sono fatti bene come questo benvengano perché alcuni remake non sono fatti bene come quello di Resident Evil se sono fatti così benvenga sì roba fresca Doom Eternal Vivi per favore lasciami stare va che che non me lo posso andare neanche a prendere perché come ho detto prima io voglio la propria fisica già ho saltato Neo 2 per colpa di sto cazzo di coronavirus salterò Doom Eternal sicuro un survival oro con i dinosauri ci starebbe troppo eh sì eh Ark eh ma hai nominato la criptonite di Zelle eh infatti mi sa che mi butterò anche sì lo comprerò su Amazon per forza se fanno i remake del primo Resident Evil la mia vita è al completo sì è vero io tra l'altro l'altra sera qualche sera fa ho iniziato il primo però quello HD quello che avevano fatto per Gamecube poi fatto in alta definizione per le ultime console quindi sto giocando Villa Spencer in alta qualità prendila oggi però se preordini il gioco ti regalano Doom 64 cazzo ma io ce l'ho Doom 64 ah no Turok no non ce l'ho Doom 64 per Nintendo 64 no Turok non so perché ero convinto di averlo Doom 64 cazzo eh adesso ci provo a prenderlo sarà una figata cioè già ho visto ho visto un paio di recensioni sembra strafigo Doom vabbè ma Doom non ha bisogno di presentazioni bello bello minchia finalmente stanno cominciando ad uscire i titoli adesso io devo andare a recuperare per forza Neo 2 e poi c'è Doom Eternal e poi ma questo qua ah Vivi ah è anche The Final Nemesis ma sapete se questo l'hanno rinviato o no perché io ho visto delle foto con la scritta rinviato a maggio Resident Evil 3 però in questa demo ci sono i poster con la data di uscita quella esatta del 3 aprile ah rinviato per le copie fisiche nooo ma che mi sto dicendo ci deve essere un trailer io non ho schiacciato nulla ah allora ce lo vediamo aspettate un attimo sono ancora fermo qui sì sì infatti mi sa che Amazon è la scelta obbligata oh ce lo vediamo vediamo esatto anche quello lo potrei prendere in digitale poi lo prendo anche fisico oh guardiamoci il trailer allora mi rimetto le cuffie non lo sapevo meno male che me l'hai detto Marco giocato su PS1 dopo un paio di jumpscare l'ho mollato oh che succede poi l'ho mollato poi ho provato il 4 nel primo villaggio con la moto 6 che mi decapitava ho mollato anche quello lo prendo fisico direttamente avanti ho GameStop cavolo devo fare dover i soldi beh anche quello è vero no da GameStop non ci vado vado dal mio compare barba da MediaWorld va bene bisogna essere connessi alla rete qua per per vedere il trailer no eccolo questo è l'inizio è l'inizio è l'inizio è l'inizio è stra buona Jill ok io non posso aspettare lo compro in digitale per la One e per collezione mi prendo la Stebuk e per PS4 infatti ho annullato la prenotazione e l'ho preso in digitale non male come idea infatti ah si ho visto anch'io eh visto l'avete visto anche che c'era il poliziotto quello di Resident Evil 2 quello che si vede all'inizio perché come vi spiegavo è interconnesso al 2 si si svolgono nello stesso arco temporale 2 e 3 Jill è stra buona mamma mia l'hanno fatta veramente figa e cazzuta niente la connessione è nemmeno a Revolution micia peccato ciò che è entrato da poco eh si oh ragazzi siamo tanti che bello Resident Evil 3 è un prequel si svolge si inizia l'ho spiegato mentre giocavo in teoria parte uno o due giorni prima di quando Claire e Leon arrivano a Raccon City che poi se non però non voglio spoilerare non va bene niente si si vede qualche altro personaggio del primo alla fine qua e niente ragazzi non vi dico cosa è successo qui sotto che è successo comunque bene bene sono stra contento sono stra contento che finalmente almeno ce l'hanno fatto provare sto cazzo di gioco anche se la demo quella del 2 mi aveva preso di più rispetto a questa non lo so forse perché la demo del 2 te l'hanno proprio confezionata a puntino che ti facevano arrivare proprio nella centrale di polizia che è tanto iconica quindi bene va bene ragazzi io direi di chiudere perché questa live l'avevo l'avevo iniziata apposta proprio per fare per far vedere la demo quindi per il momento io direi di andare lo dirò per sempre ma a me Resident Evil 7 non mi è piaciuto ha rovinato la saga vabbè dai hanno fatto un esperimento diciamo che hanno preso spunto da PT da quel capolavoro di PT e ci hanno fatto Resident Evil 7 perché dai si vede che gliel'hanno scopiazzata un po' l'idea però dai è bello anche Resident Evil 7 fa tanto che c'era addosso andiamo da curo wow si si ti devo dire che mi sa se lo facevano come capito da parte si salvava vabbè in effetti però non è collegato alla drama proprio in sé per sé Resident Evil 7 c'è un personaggio inedito andiamo da curo lì l'aspettate un attimo che apro perché ancora non ho capito se si può fare il ride da StreamElement quindi ogni volta mi tocca aprire Twitch che mi dimentico sempre di aprirlo speriamo le faccia piacere il ride fai te ok Gian fai te allora ragazzi io vi saluto a tutti grazie per essere stati qui grazie mille FinalNamesist per il follower per essere stato qui oh vienici a trovare spesso perché noi facciamo un po' di tutto facciamo anche del retro gaming facciamo tutto e ti consiglio anche di andarti a recuperare i nomi della gente in chat perché si praticamente sono tutti streamer tutti bravi tutti del nostro gruppo quindi ti consiglio veramente di seguirli e ciao a tutti ragazzi grazie mille per essere stati qui e andiamo a trovare curo lì va speriamo sia contenta Gian fai partire il ride dove è il mio telefono eh lo so lo so ma tanto stiamo chiudendo adesso Gian fai il ride da curo lì ciao a tutti ragazzi ciao perché ho aperto Chrome per questo sto laggando chiudi chiudi Chrome via via dov'è il telefono restate restate che andiamo a fare un saluto a curo lì restate ragazzi per il ride per favore ciao ragazzi siete grandissimi grandissimi veramente grazie un abbraccione a tutti e ci vediamo sicuramente stasera con Gianluca e vediamo no dei mari è arrivato con altri sei utenti no è arrivato non voglio non voglio trovarmi con 20.000 giochi ancora da finire benvenuto arrivi al momento giusto ho appena decifrato queste piante ciao let me play live che siete i ride a un osservatore casuale potrebbe sembrare un semplice mucchio di pietre ma per me sono una chiave visto alcuni sono lunghi altre corte sono le noti di una canzone commetto che la canzone apre questo cancello per i cunicoli della mezzanotte non so esattamente come guarda che ci sono un sacco di quest e io le voglio completare tutte ma vabbè se c'è tempo non riesco a chiudere non riesco a chiudere come faccio